Buongiorno a tutti, bentornati o benvenuti nel mio canale. Oggi si respira l'area di primavera perché parliamo di profumi al mughetto. Il mughetto è una nota olfattiva che mi ispira molto, atmosfere che richiamano proprio all'inizio della primavera. Io sono una persona estremamente legata alla stagione primaverile, possiamo dire che è la mia stagione preferita, anche se dentro di me diciamo che hanno spazio un po' tutti i mood legati alle varie stagioni dell'anno, credo anche un po' come tutti, però diciamo che la primavera è quella che mi fa più sentire bene, quella in cui mi sento più confidente, che rispecchia maggiormente diciamo le inclinazioni del mio animo e quindi dobbiamo necessariamente affrontare il tema dei profumi che ci preparano alla primavera. Profumi che ci preparano alla primavera perché tecnicamente la primavera non è ancora arrivata, le condizioni medie non so quanto e per quanto tempo saranno stabili, oggi per esempio è una splendida giornata di sole, purtroppo non si vede perché per i soliti miei motivi di illuminazione devo tenere le luci molto basse in stanza, altrimenti inizia la mia trasfigurazione, però fuori c'è tantissimo sole, una temperatura molto mite, insomma è proprio tutto chiama la primavera e tutto rimanda alla primavera e quindi è arrivato assolutamente il momento di fare questo video dei profumi pre-primaverili. Prima di iniziare con i contenuti del video, vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale, se vi piacciono i contenuti che propongo attivate anche la campanellina delle notifiche in modo da essere appunto avvisati quando tutti, 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 uscite un nuovo video, scrivetemi un commento perché è importante non solo per la crescita del canale ma anche perché mi interessa la vostra opinione e quindi fatemi sapere quali sono A. I vostri profumi al mughetto preferiti B. Quali sono i vostri profumi che vi mettono nel mood primavera, cioè di quelli che vi preparano alla primavera, i profumi che possiamo definire l'anticamera della primavera. Detto questo iniziamo. Oggi vi mostro tutta una serie di fragranze che sono molto incentrate sulla nota di mughetto ma alcune hanno anche altre note di contorno, cioè non sono solo profumi, solo in nota al mughetto. Andrò un po' in ordine, nel senso che parto da quelli in cui il mughetto c'è e si sente e finirò con quelli in cui possiamo dire che il mughetto è la nota assolutamente protagonista. Ovviamente non vi farò vedere tutti i profumi che posseggo che contengono una nota di mughetto, perché ovviamente a parte che faremo mattina, ma soprattutto si tratta di profumi che appunto contengono una nota, ma io voglio mostrarvi quelli che proprio sono centrati sul mughetto, cioè sono quei profumi che hanno il mughetto come assoluto protagonista. Prima di iniziare però come sempre sapete che mi piace introdurre l'argomento con delle nozioni di carattere un po' più strettamente tecnico e quindi il mughetto. Il mughetto è una nota affattiva molto particolare, rientra ovviamente nella sfaccettatura fiorita, nella famiglia dei fioriti, ma il mughetto dà un po' di problemini perché è un fiore che non è al momento estraibile naturalmente. Come sapete moltissimi fiori vengono estratte con tutta una serie di processi, ma si parte dalla materia prima concreta del fiore in sé per sé. Il mughetto rientra in quei fiori che non si riescono a processare perché sono dei fiori estremamente fragili, dei fiori molto delicati e sottoponendoli ai vari tipi di processi di estrazione insomma il fiore non resiste e quindi praticamente si danneggia, si disgrega e soprattutto la cosa interessante è che i vari tentativi non hanno sortito un effetto sperato, cioè le molecole che ne sono venute fuori perché magari si è anche riuscito a concludere questo processo ma le molecole che ne sono venute fuori non sono molecole che olfattivamente ricordano il mughetto. Questa cosa non ci deve meravigliare, l'ho detto anche in altre occasioni parlando di altre materie prime, cioè non sempre l'olio essenziale, l'assoluta, comunque l'estratto di un fiore sa di quel fiore, cioè paradossalmente a volte se non usiamo un'assoluta di un fiore ci rendiamo conto che ha tutt'altro odore e quindi paradossalmente magari per riprodurre l'odore di una rosa necessitiamo di un mix di altre molecole o di processare altri tipi di materie prime per restituire al nostro naso quella che è l'impressione olfattiva della rosa. Ecco, in questo caso col mughetto si fa questa cosa proprio perché non si riesce ad estrarre, a processare, a lavorare il fiore e i tentativi fatti non hanno sortito, come dicevo, l'effetto olfattivo che si sperava. Quindi il prodotto della lavorazione non sapeva di mughetto. Cosa succede? Che in questo caso ci viene incontro la sintesi e quindi tante aziende hanno sintetizzato tutta una serie di molecole, le cosiddette molecole identiche natura, che sono praticamente le riproduzioni e questo è proprio il nome, diciamo, il nome specifico per individuare questi prodotti si tratta di riproduzioni, ovvero quei prodotti chimici che vanno a riprodurre l'odore di qualcosa esistente in natura quindi non si tratta di molecole inventate dai chimici perché quelle esistono ovviamente ma sono di tutt'altra gamma e parliamo di altri tipi di prodotti. In questo caso parliamo di molecole che vanno a riprodurre qualcosa di esistente in natura e che però non si riesce ad estrarre dalla origine appunto naturale come in questo caso il mughetto. Ci sono poi delle tecniche veramente molto particolari di estrarre questi tipi di molecole odorose senza toccare il fiore in qualche modo, senza processarlo e una di queste è la cosiddetta headspace cioè proprio lo spazio sulla testa. Cosa vuol dire? Headspace è una tecnica veramente particolare ma che si utilizza non moltissimo perché è molto costosa ed è praticamente l'estrazione della, come possiamo dire, dell'essudato odoroso di un fiore. Come funziona? Praticamente su un fiore vivo, quindi un fiore non reciso, quindi parliamo di un fiore vivo, non raccolto, si applicano delle ampolline, queste ampolline che vanno praticamente a racchiudere proprio la sua testa, da questo il nome è head. Praticamente all'interno di queste ampolline è presente una sorta di mini recettore con una micro spugna e questo recettore praticamente e di conseguenza la spugna si imbibisce dell'aria profumata che emette il fiore. Proprio perché c'è questa micro spugna che raccoglie queste molecole odorose successivamente vengono estratte attraverso uno strumento che molti conoscono, cioè nel senso almeno di nome, che è il gas cromatografo, ovvero quello stesso macchinario che si utilizza per, come dire, estrarre le formule dei profumi. Cioè quando andiamo a creare il profumo dupe, molto spesso il dupe è possibile realizzarlo grazie all'impiego del gas cromatografo. Cioè si inserisce il prodotto all'interno del macchinario, si estrae la formula perché il liquido viene passato allo stato gassoso, viene appunto decrittata in qualche modo la formula anche con non soltanto le componenti, ma anche in che misura ci sono queste componenti e in questo modo si riesce ad ottenere una formula finale. In questo caso non è soltanto un discorso valido per ad esempio i dupe, ma anche in questo caso il gas cromatografo va a in qualche modo sezionare questo essudato odoroso, se così possiamo dire, in questo caso del mughetto, comunque del fiore che è stato sottoposto alla tecnica dell'headspace, quindi all'estrazione tramite headspace. In questo caso viene in qualche modo detto ok di questa componente A ci sono queste molecole in questa quantità, della componente B queste molecole, questa quantità, eccetera, eccetera. In questo modo quindi vengono in qualche modo decifrati quali sono i responsabili dell'odore del mughetto, con poi il successivo passaggio che è quello di riprodurre il laboratorio per avere appunto queste molecole odorose. Spero di essermi fatta capire, non è una cosa estremamente semplice, ma voi immaginatevi che esiste, così come noi con il naso, avviciniamo il naso e catturiamo le molecole odorose di un fiore, pensate che esiste un piccolo macchinario estremamente sofisticato ed estremamente preciso che fa quello che facciamo noi con il naso, cioè capta le molecole odorose del fiore e le trasferisce su questa specie di spugna, intrappolandole poi come se fosse appunto una condensa, perché poi appunto c'è la successiva estrazione. La cosa molto interessante della tecnica dell'headspace è che in questo modo si è riuscito a decifrare anche con quale intensità e in quale momento della giornata i fiori emettono maggiormente odore, nel senso che i fiori non profumano allo stesso modo in tutti i momenti della giornata, perché ci sono dei momenti in cui il fiore tende a schiudersi maggiormente, in cui attrae maggiormente quindi gli impollinatori, siano essi insetti, uccelli, eccetera, eccetera. Quindi le esalazioni odorose praticamente variano. E in questo modo, sottoponendo appunto il fiore al headspace, si riesce a capire anche quando tira fuori maggiormente odore e in quale momento della giornata, con quale intensità. Cioè questa cosa la trovo veramente meravigliosa. È un modo anche proprio per decifrare il funzionamento della natura, indipendentemente proprio dalla questione poi estrattiva della molecola odorosa e tutto il resto. Ma, dopo questa premessa che spero non vi abbia annoiato ma vi abbia interessato, tutto questo per dire che il mughetto, vuoi o non vuoi, non si estrae naturalmente ma si riproduce in laboratorio. Quindi una volta che i chimici hanno capito quali molecole combinate insieme, magari anche un mix di molecole di origine naturale e molecole puramente sintetiche, quali molecole appunto riuscissero a dare l'idea del mughetto, cioè l'idea odorosa del mughetto, le hanno messe insieme e le hanno commercializzate. Non ricordo adesso i nomi di queste molecole, perché ovviamente come sapete hanno questi nomi sempre molto scientifici, di linguaggio scientifico, quindi non me ne ricordo assolutamente. Cercherò di inserirvele qualche esempio in post-produzione qui accanto, in modo tale che sappiate che queste molecole sono quelle che sono maggiormente responsabili del conferire l'odore di mughetto a una composizione. Iniziamo adesso con la carrellata dei profumi. Come ho detto parto da quello che odora un po' di meno di mughetto fino a salire. Partiamo subito con un profumo che è un mix di mughetto e magnolia. Mughetto e magnolia sono per me degli odori leggermente sovrapponibili, cioè mi rimandano un po' a una serie di immagini uguali, simili, per quanto mi rendo conto che sono olfattivamente due prodotti molto diversi. La magnolia ha un odore molto molto più verde, molto più vegetale, ma è anche un odore che a me piace di meno rispetto a quello del mughetto. La magnolia purtroppo, per quanto mi riguarda, spesso viene declinata in un modo che sembra un po' retro, cioè sembra un fiore un po' retro, usa un po' di saponetta della vecchia zia. Il mughetto a volte potrebbe avere questo risvolto, ma non sempre. Questo è un profumo in cui vengono uniti gli ingredienti di mughetto e magnolia ed è lili e magnolia di Morton Brown. Lili perché? Perché il mughetto in inglese si chiama Lily of the Valley, cioè Giglio delle Valli praticamente, quindi per questo motivo spesso lo trovate con il nome di lili. Allora, è un profumo che sa sicuramente di mughetto e sa sicuramente anche di magnolia, quindi come dicevo è un ottimo mix tra questi due fiori. È un profumo che io non andrei a comprare in full size perché secondo me quello che gli manca è un po' la spinta, cioè è un profumo estremamente fiorito, cioè in cui la parte fiorita è assolutamente protagonista, però purtroppo nella mia percezione rimane un pochino anonimo, cioè come se non avesse un guizzo particolare di personalità. E questa cosa secondo me lo va un po' a penalizzare. Però diciamo che se cercate un profumo che sa di magnolia, questo sicuramente risponde alla domanda. Ho detto magnolia, scusate, in realtà anche mughetto. Se volete un profumo che sa di mughetto, questo è un profumo che risponde a questa caratteristica. Il mughetto tendenzialmente, se vi devo spiegare di cosa sa il mughetto, è una profumazione sicuramente fiorita, un fiorito che ha un non so che di molto fresco e anche abbastanza verde. Il mughetto è un fiore, diciamo, che cresce bene anche in climi freschi, quindi non necessita necessariamente di un clima caldo e questa cosa secondo me olfattivamente si sente. È come se avesse un qualcosa quasi di montagna. Cioè non so come devo spiegare, però diciamo che ci sono dei fiori che hanno un afflato molto tropicale. Sto pensando, per farvi capire, all'Ilang-Ilang. L'Ilang-Ilang è un fiore che è palesemente tropicale, un fiore che ha palesemente a che fare con l'estate, con il caldo, con il clima caldo, trasmette questa idea di grande calore, proprio di quel calore estivo. In questo caso, invece, parliamo di un fiore sicuramente più fresco, quella freschezza che, per quanto mi riguarda, motivo per il quale oggi siamo qui a parlarne, mi ricorda proprio l'inizio della primavera. Quindi non parliamo del pieno della primavera, ma parliamo della primavera ai suoi primi tepori, in cui c'è questa idea di un fiore comunque che sentite e vedete in un clima in cui l'aria è ancora fresca. Non so come spiegarvi. E anche questa caratteristica di essere anche un po' trasparente, un po' acquatico. Cioè il mughetto spesso non mi appare come un fiore reciso, ma come un fiore fresco, di quelli appunto che sono ancora vivi. Ecco, un'altra caratteristica del mughetto è a chi ha, non so che, però anche di moschiato. E infatti in questo caso c'è una sorta quasi di contraddizione, perché se da una parte la declinazione del mughetto mi dà un'idea di estrema freschezza e di appunto caratteristica quasi un po' acquatica, verde, dall'altra parte, in determinati tipi di composizioni, il mughetto assume una connotazione quasi indolica, quindi di fiore estremamente sensuale, un po' conturbante, un fiore un po' dalolita, secondo me. Cioè quel fiore che all'apparenza sembra estremamente innocente, fresco, frizzante, quasi timido, però nasconde un po' un lato oscuro, un lato quasi appunto conturbante, un po' indolico, di estrema sensualità. E questo lo vedremo in due particolari profumi che vi mostrerò, in cui secondo me emerge molto questo lato quasi indolico del mughetto. Non so se questa cosa ha una, come dire, valenza chimica, cioè non so se tra le molecole odorose del mughetto c'è anche l'indolo e quindi ha senso questa cosa, ma se non c'è, penso che ci siano delle molecole che in qualche modo richiamano a questa atmosfera. Infatti non a caso, a volte il mughetto, l'odore del mughetto viene associato anche proprio a un odore di intimità, è un odore di, come dire, Paesi Bassi Femminili. E su questo mi fermo. Passiamo poi a un altro mughetto di tutt'atto stampo, possiamo dire, un mughetto estremamente vellutato, un mughetto che è veramente meraviglioso. Io ve lo mostro però, è una versione dupe, perché avevo provato una serie di profumi di One Parfum, questo è il 435 ed è il corrispettivo di Velvet Mughetto di Dolce & Gabbana. Velvet Mughetto è un profumo di Dolce & Gabbana che fa parte, diciamo, della linea privé, quindi quella un po' più costosa, che non si trova nelle profumerie, diciamo, commerciali, ma si trova nei corner, ad esempio, di Rinascente, nelle boutique Dolce & Gabbana, quindi nel segmento, diciamo, un po' più lusso. Questo mughetto è meraviglioso. Allora, il nome Velvet Mughetto è assolutamente azzeccato perché ha una partenza molto vellutata, una partenza quasi dolce che mi ricorda quelle note tipiche dei fiori caldi, dei fiori ricchi, quella nota che spesso vi ho detto banana, cioè è un profumo quasi inettaroso, cioè sa quasi di nettare, questo nettare che ha un non so che di semi mielato ma che ricorda l'odore di una banana matura e questo, ad esempio, è un odore che si sente tanto proprio nell'estratto delle lang-y-lang ma che può caratterizzare anche altri tipi di fiori come il gelsomino. Il responsabile di questo odore banana è, ad esempio, l'acetato di benzile che, a questo punto, non so se è anch'esso contenuto nel mughetto o potrebbe essere semplicemente dovuto alla presenza di un altro ingrediente, questo non lo possiamo dire, in ogni caso questo odore mi piace tantissimo. è un mughetto che si rivela con il passare del tempo nel senso che inizialmente si sente questa componente dolce quasi un po' fruttata o quasi un po' bananosa dopodiché parte la nota di mughetto e riesce ad essere un mughetto anche abbastanza naturale. Considerate che questa è una versione dupe, io non ho sentito l'originale dolce gabbana che quindi potrebbe essere ancora meglio con dei risvolti olfattivi ancora più interessanti e mi aspetto considerato anche il costo quindi questo caso me lo auguro anche che si possa sentire una maggiore diciamo un maggiore pregio delle materie prime rispetto a questo che è un profumo da 30 euro se lo comprate in full size rispetto a quello che penso che possa costare boh sole almeno 150 euro non mi sono informata ma credo di sì però questo è un mughetto veramente mi mette quasi un po' l'acquolina in bocca questo profumo non so come dire proprio perché parte con questa nota iniziale molto interessante che conferisce al tutto proprio questa sensazione vellutata non vorrei dire una scemenza ma è come se ci fosse anche quasi della pera non lo so non ho consultato le note olfattive quindi a voi il piacere di scoprirlo ma mi sembra che odori anche quasi un po' di pera mi piace tantissimo questo è un mughetto che mi sento di consigliarvi e che spero di sentire anche nella versione non dupe perché ovviamente in quel caso probabilmente verranno fuori delle caratteristiche molto più interessanti il mughetto può essere un profumo da sposa secondo me e in questo caso vi propongo due mughetti secondo me molto nuziali il primo non a caso è Yes I Do di Etalibre d'Orange in questo caso non si tratta di un mughetto solo di nota ma si tratta di un mughetto che è attorniato da altre note in primis il fiore d'arancio ma questo è un mughetto veramente bellissimo questo per me è un profumo perfetto per una sposa perché è un profumo che sa proprio di bouquet di bouquet di questi fiori bianchi freschi in questo caso non ci sono tracce indoliche ma è tutto estremamente luminoso e rassicurante c'è un profumo fresco è un profumo frizzante ma non perché abbia delle note tipo di pepe frizzante perché mi trasmette proprio un'idea di solidarità è proprio veramente il profumo della sposa cioè davvero cioè il profumo del bouquet della sposa degli addobbi in chiesa della sposa quindi fiori in una composizione che richiamano molto rimandano molto a queste immagini di stampo nuziale e tutto contribuisce a creare questa atmosfera tra il fiorito e il leggermente verde perché sento anche proprio questa componente verde come se ci fossero gli steli le foglie dei fiori di questo bouquet di questa composizione mi piace veramente tanto il mughetto in generale penso che sia comunque un profumo adattissimo per l'ambiente ufficio cioè un profumo diurno in qualche modo perché è un fiore che seppur a volte rivela questi lati sensuali che poi dopo vi descriverò comunque secondo me ha una sua luminosità interiore non lo trovo un profumo oscuro non lo trovo un profumo dark non lo trovo un odore notturno ecco per me il mughetto non è un fiore notturno è un fiore che non vuoi diurno e non è invadente quindi non lasciando queste scie così preponderanti non avendo questa sorta di invasione anche dello spazio vitale altrui trovo che sia perfetto per un contesto lavorativo come ad esempio può essere un ufficio perché poi è un profumo anche abbastanza secondo me elegante c'è un profumo polite quindi di conseguenza ce lo vedo proprio bene con giacca camicia impiegato al computer che lavora insieme ad altre persone all'interno di un ufficio non è un fiore molto rock secondo me il mughetto cioè per avere un anima rock credo che dovrebbe comunque essere in qualche modo unito stratificato con altri ingredienti che gli possano andare a conferire appunto quell'oscurità che secondo me gli manca il mughetto resta un fiore primaverile che rimane da un'immagine di solarità e non l'oscurità della notte yes edu mi piace un sacco sentitelo e prendetelo in considerazione se dovete sposarvi e se vi piace il mughetto perché secondo me potrebbe essere veramente molto azzeccato per il contesto di quel giorno veniamo poi un profumo che mi ha dilaniato completamente l'anima in senso positivo purtroppo costa tanto ed è acqua universalis di maison francis courjan questo profumo è uno spettacolo quando vi dicevo che il mughetto è un fiore luminoso questo è un mughetto con un ulteriore faro puntato sopra di luminosità e di freschezza perché in questo caso il mughetto è unito ad una nota meravigliosa di agrumi cioè c'è qualcosa che richiama più all'inizio della primavera del mughetto messo agli agrumi secondo me no ma è stupendo ma quanto è buono cioè è proprio la freschezza la luminosità a volte mi ricordo di aver descritto diversi profumi come profumo luminoso cioè quel profumo che trasmette una vera idea di luce di suavità di luminosità appunto di raggi sparsi di assenza di ombre e questo è proprio questo questo è proprio il profumo da déjeuner è sull'erba praticamente solarissimo esiste solarissimo si può usare questo aggettivo questo superlativo non lo so ma è freschissimo è fresco frizzante luminoso davvero una botta di energia cioè questo ve lo mettete la mattina sparate alto fino al tramonto praticamente non vi so dire la durata perché questo campioncino l'ho appena scoperto nel senso che ho fatto una super suddivisione dei miei campioncini nei giorni scorsi li ho divisi finalmente per famiglia olfattiva o comunque tipologia di appartenenza e come spesso succede a volte ci dimentichiamo di avere delle cose e questo nella suddivisione l'ho trovato e quindi l'ho riposto nella scatola delle mie taglie dei profumi fioriti ed effettivamente è un profumo fiorito anche se sono abbastanza combattuta perché ha questo lato agrumato abbastanza spinto quindi non lo so è uno di quei profumi da indossare quando volete entrambe le cose e quindi quando magari diciamo volete indossare sia un profumo dal carattere agrumato frizzante speridato sia un profumo di carattere fiorito perché comunque qui il mughetto c'è e si sente seconda proposta per la sposa perché questo è veramente spettacolare se oggi mi dovessero dire sposati e scegli un profumo io sceglierei questo ma perché trasmetto un'idea proprio di positività cioè ecco questo intendo dire quando un profumo è solare cioè che non solo mi rimanda proprio a delle immagini di sole di prato immerso dal sole di fiore illuminato a giorno eccetera ma anche una positività interiore cioè mi trasmette proprio pensieri positivi è meraviglioso se uno con il giorno in cui si sposa deve avere per forza un profumo secondo me che richiama pensieri positivi quindi lo trovo anche coerente diciamo con quella situazione prendete nota perché questo è veramente buonissimo acqua universalis di Maison Francis Courjean adesso ci addentriamo nella top 3 dei profumi in cui la nota di mughetto come se fosse proprio la nota super protagonista è quasi assoluta si sente veramente tanto prima però facciamo una sorta di parentesi di piccola delusione e la delusione è ancora più alta perché è un prodotto che mi è stato mandato da un'amica del canile Gabriella ciao Gabriella se mi stai guardando io ti ringrazio anche pubblicamente per il pacchettino che mi hai mandato c'era un profumo di Fremond un olietto di Fremond che io non ho mai provato nel senso era il mio primo Fremond quindi ero molto contenta di provare questo profumo in olio e questo appunto il profumo mughetto c'è soltanto un grande grandissimo problema che questo profumo allora io non sento la nota di mughetto ma questo potrebbe essere un problema secondario perché appunto può succedere che sentiamo altro in un profumo e non magari anche la nota dichiarata come protagonista il vero problema è che odora in maniera molto simile ad un qualcosa che io detesto cioè il muschio di noia cioè mask is great vi metto qui la foto e se avete dimenticato il mio dissing nei confronti di questo profumo andate a recuperare il video dedicato ai profumi al muschio bianco che se non ricordo male si chiama 50 sfumature di muschio bianco se mi ricordo ve lo metto anche nelle schede non mi chiedete il motivo per il quale questo profumo odora di quello a sto punto devo dedurre che in quel profumo ci fosse anche una nota mughetto non lo so il problema è che è un odore che per me è molto poco sopportabile quindi visto che però si tratta di un profumo in olio che potrebbe essere la base di altri profumi lo voglio provare per provare a stratificarlo con qualcos'altro prima di stare bandera bianca e a rendermi con questo profumo mi dispiace veramente un sacco perché appunto sono sicura che questo profumo mi è stato mandato con l'intento di farmi un pensiero gradito e il pensiero ovviamente è stato graditissimo però purtroppo il profumo non si è comportato nella maniera che io mi aspettavo perché purtroppo io qui non sento l'odore del mughetto ma sento appunto questa nota muschiata un po' plasticosa e con una punta fiorita sicuramente più spinta rispetto a quella del musk is great però a parte questa punta fiorita per me questo profumo è proprio il musk is great in versione olio e finalmente sono riuscita a vendere il musk is great perché non lo sopportavo più davvero c'è una statua l'anima pia che ha comprato quel profumo purtroppo questo al momento è un grandissimo dubbio perché devo capire come si comporta stratificato con altri profumi esperimento che adesso non ho fatto perché appunto come sapete io in inverno tendo molto ad accantonare i profumi fioriti perché per me hanno solo un richiamo ovviamente alla primavera quindi non mi viene quella spinta di indossarle sto adesso iniziando a indossare i profumi fioriti con più grinta e con più convinzione e è arrivato il momento appunto di provare che succede con questo con altri profumi purtroppo messo da solo in purezza sulla mano non lo riuscirai a indossare perché mi ricorda tanto tanto ma tanto quel mask is great terribile e terrificante quindi da capire io intanto ve lo mostro perché ovviamente è un olio al mughetto quindi se trovate Fremond se avete modo di sentirlo provate a sentirlo anzi se lo conoscete fatemi anche sapere secondo voi di che cosa sa e da capire cosa c'è che non va nel mio naso in questo prodotto nel mughetto in generale non lo so fatto sta che al momento devo necessariamente fare delle prove perché così come mi sa che non riesco ad utilizzarlo in ogni caso grazie Gabriella spero che tu ovviamente apprezzerai la mia opinione assolutamente sincera come tutte quelle che propongo sul canale ma in ogni caso grazie per il tuo regalo mi ha regalato anche altre due cose a cui sono estremamente legata e di cui sono estremamente contenta non mancherò di menzionarvele in qualche altro video così random torniamo alla nostra classifica e quindi vi devo parlare dei tre profumi che posseggo che secondo me sanno più di mughetto al terzo posto mettiamo senza indugio su segugio canile l'Easy Sunday Morning di Replica Maison Margiela allora questo è un profumo che sa tanto di mughetto assolutamente sì è un profumo che sa tanto anche di sapone come sapete Replica è la linea di Maison Margiela che va a replicare per l'appunto situazioni di vita reale di vita vera ed andarla a racchiudere nella boccetta di profumo regalando quindi una specie di profumo esperienza ad esempio infatti abbiamo i famosissimi coffee break bubble bath anche quello del caminetto by the fireplace non mi veniva scusate eccetera eccetera e tanti altri la linea replica è molto ampia tante referenze questo va a replicare una pigra domenica mattina quanto mi piace questo claim tantissimo parliamo quindi di stare a letto pigramente a non volersi fare assolutamente coinvolgere dalla frenesia non ci sono impegni non abbiamo niente da fare possiamo cazzeggiare nel letto e per me questo claim è meraviglioso quindi il cazzeggio della domenica mattina come lo interpreta la Maison Margiela con questo odore di sapone perché per me è un odore di sapone quindi mi richiama comunque all'idea di lenzuola pulite e all'idea anche di una doccia fatta perché magari uno si fa una doccia poi si torna a mettere al letto insomma cazzeggia per l'appunto e c'è questo odore di mughetto che in questo caso secondo me è anche un po' un richiamo a quello che vi ho detto prima cioè un odore comunque anche che ha a che fare con l'intimità ma in questo caso un'intimità pulita io mi aspetto ovviamente in questo caso la condivisione di questo letto cioè non mi immagino una persona da sola a condividere questo letto pigro del domenica mattina ma mi immagino una coppia nel letto insieme che cazzeggiano e quindi ovviamente inevitabilmente ci sono anche dei momenti di intimità un po' più spinta quindi questo profumo però ha il vantaggio di trasmettermi questa sensazione senza entrare in quella componente indolica che vi dicevo quindi si mantiene comunque come un fiorito fresco abbastanza innocente con una piccola nota un po' più conturbante ma niente di particolarmente eccessivo mi piace molto questo profumo e c'è scritto peraltro nella descrizione della fragranza soft skin and bed linen quindi proprio pelle soffice pelle morbida e lino del letto quindi le lenzuola quindi dà quest'idea di bucato pulito io avrei inserito un'altra nota un po' più saponosa che richiama un po' più leggermente la detergenza che in questo caso non c'è io l'avrei messa per un mio gusto personale ma il mughetto qui si sente tanto cioè possiamo dire che il mughetto in questo caso è il fiore protagonista intorno cui ruota tutta la fragranza è molto evocativa ha questo bellissimo vantaggio di essere tanto evocativa se vi piace bubble bath penso che questa fragranza non vi dispiacerà perché appena spruzzata quell'odore che dicevo proprio di pulito di doccia di pelle pulita ricorda tanto il bubble bath che io anche ce l'ho è un profumo che però non mi sono sentita particolarmente di promuovere perché mi rimaneva un po' anonimo e soprattutto sparisce in molto poco però diciamo che da un punto di vista di composizione olfattiva la parte iniziale di questo profumo ricorda tanto bubble bath e quindi come se fosse un bubble bath con il mughetto non so come dire questo spero che mi dia delle grandissime soddisfazioni proprio quando la primavera inizierà a entrare nel suo grandissimo vivo ma vi dico che già adesso lo sto usando volentieri e infatti quando inizio a riprendere i profumi fioriti appunto alla fine dell'inverno quando stiamo comunque nell'anticamera della primavera non a caso io utilizzo tantissimo i profumi al mughetto e quindi torniamo con il senso del video per me il profumo del mughetto è davvero un profumo che mi richiama alla primavera e mi inizia anche nel gesto di profumarmi inizia a farmi cambiare un po' il modo di profumarmi cioè abbandono le profumazioni tipicamente invernali tipicamente legate al freddo eccetera e mi inizia ad aprire alla mia famiglia olfattiva preferita possiamo dire comunque una delle sicuramente tre mie famiglie olfattive preferite cioè i profumi fioriti a me piacciono i profumi che sanno di fiori mi piacciono e questo sicuramente uno di quelli in questo caso ovviamente il mughetto grande protagonista veniamo poi a un altro immancabile profumo al mughetto che sa tanto di mughetto il mughetto di erbolario questo è un profumo che io utilizzo con grandissimo piacere in primavera lo utilizzo veramente tanto infatti è anche abbastanza usato possiamo dire che siamo a metà è un profumo che riesco utilizzare anche nei giorni di pioggia primaverili mi viene di utilizzarlo perché mi richiama ad un'immagine molto saponosa e di comfort cioè mi riesce a mettere in una situazione di comfort anche nei momenti di pioggia cioè non so come dire è un profumo per me anche molto psicologicamente vincente non a caso ve ne ho parlato in un video che feci l'anno scorso dei profumi quando sono in modalità mi scoccio profumi in momenti in cui non voglio di fare niente vi linko anche questo nelle schede e vi dico che è così per me questo è un profumo che ha anche un non so che di vagamente terapeutico mentalmente perché mi fa sentire a posto cioè mi fa sentire pulita mi fa sentire in ordine uno di quei profumi che mi viene voglia di utilizzare anche se sto in casa mi piace veramente tanto però questo è un mughetto di quelli che vi dicevo prima che ha una sorta di lato quasi oscuro perché io ci percepisco quasi un lato indolico che non so come sia possibile ma è possibile cioè la sento questa nota in qualche modo corporale non so come vi devo dire mi ricordo che c'era un video di Sinister in cui anche lei accennava a questa cosa delle molecole odorose dei paesi bassi femminili che corrispondono in alcuni casi alle molecole odorose del mughetto cioè come se ci fosse una condivisione di alcune molecole odorose motivo per il quale gli uomini sono anche diciamo in qualche modo inconsciamente attratti dall'odore del mughetto io non ho trovato traccia su internet non ho cercato fonti accreditate quindi vi riporto quello che ha detto un'altra persona però vi posso dire che con la mia come dire istintiva esperienza mi trovo d'accordo con questa cosa cioè riscontro questa cosa quindi sono d'accordo poi vi ripeto non so se è un abbazzonato una boiata se è qualcosa che è un fondamento scientifico io credo di sì cioè non credo che abbia riportato qualcosa così a caso quindi penso che le sia stato detto o in qualche contesto formativo o in qualche altro contesto non lo so però diciamo che in ogni caso io riscontro la veridicità di questa cosa da un punto di vista empirico dal punto di vista della mia esperienza quindi il mughetto di erbolario è secondo me quel mughetto in cui si uniscono molto bene quelle due componenti che vi dicevo da una parte un po' la sensualità di questo fiore e dall'altra parte un'immagine di pulizia di innocenza proprio di natura che sboccia dopo il freddo dell'inverno in ogni caso mi piace un botto questo profumo signor erbolario non fare i rompimaroni e non toglierlo dal mercato cortesemente grazie perché qua non si fa in tempo ad affezionarsi a un profumo o a dire questo profumo mi piace un sacco oddio spero che non lo tolgano mai che puntualmente ti tirano il bidone e te lo tolgano dal mercato al primo posto in classifica devo mettere necessariamente un profumo atomico formato fialetta perché è un profumo bello costoso mughetto di mazzolari è proprio questo il profumo nel quale cioè o meglio è proprio questo il profumo che ha presentato Sinister ma parlo di parecchio tempo fa in cui ha parlato anche di queste molecole odorose ok quindi della condivisione di queste molecole tra Paesi Bassi e Mughetto questo profumo l'ho sentito proprio perché la sua descrizione mi aveva estremamente incuriosita mi sono trovata a Milano per altri motivi un po' di mesi dopo che lei aveva parlato di questo profumo e sono andata alla profumeria a Mazzolari penso che che il lombardo o milanese la conosca è comunque una profumeria assurda a parte che ha diverse punti vendita sparsi per la città ma quello più importante è quello principale credo che quello dove sono andata io perché è una profumeria tipo Bo su due piani con un piano interrato in cui c'è tutta nicchia c'è profumeria commerciale profumeria tradizionale anche un corner drugstore c'è quel posto veramente il paese dei balocchi vi preco chiudetemi lì dentro e buttate la chiave ma tant'è ovviamente sono andata lì a sentire questo mughetto spinta dalla curiosità da questa descrizione che avevo trovato estremamente efficace e vi posso dire che questo mughetto è meraviglioso costa un botto di soldi perché penso che siamo sulle 200 euro ma è stupendo è veramente stupendo cioè allora parte anche lui con questa lieve nota banana tipo il velvet mughetto di Dolce Gabbana ma svanisce molto più in fretta perché ci catapulta subito in questa atmosfera di mughetto cioè mughetto ovunque mughetto super protagonista e in questo caso un mughetto molto sensuale cioè un mughetto in cui si evince tanto questa rimando alla carnalità cioè questa immagine sexy io la sento è sempre un sexy diurno quindi vale sempre quello che vi ho detto non è un profumo serale non è un profumo notturno però è un profumo da rendezvous diurno cioè ha proprio non so che verbo di succoso di carnale mi dà una sensazione quasi tattile come se potessi affondare le mani in queste campanule di mughetti con questa sensazione quasi cicciottosa ecco siamo di fronte a uno di quei fiori che io definirei cicciottosi mi dà proprio un'idea di consistenza carnosa del petalo non so come vi devo dire e quindi c'è anche questo richiamo anche alla consistenza carnosa della carne umana questo è il profumo che finirò il video e oggi ho deciso di indossare perché merita di essere indossato è meraviglioso cioè sembra tanto naturale anche questa nota dolcina di fondo che a tratti sembra quasi un sottile bubble gum ma non vi fate spaventare perché non pensate alla ciunga non pensate a ciclis non pensate alla big bubble no però ha questa nota zuccherina di fondo che sembra quasi l'eco del bubble gum cioè sembra quasi la carta dove avete avete scartocciato il bubble gum e odorate la carta però dopo un po' di tempo quindi quando è passato un po' di tempo quando l'odore è un po' svaporato ha questa specie di dolcezza continuativa di fondo che è meno come dire sfacciata rispetto a quello di dolce gabbana però c'è ed è una costante e poi c'è questo elemento meraviglioso reale di mughetto che è un mio dio cioè questo è un po' ipnotico questo profumo tende un po' a sordire secondo me infatti quando l'ho utilizzato l'ho utilizzato dosandolo molto perché ho paura che possa essere un po' troppo potente e possa quindi dare questo effetto un po' narcotico ma è stupendo e meraviglioso piangerò lacrime amare quando finirò la fialetta perché il profumo costa veramente tanto però pace e amen poi ci penseremo in ogni caso se siete amanti della nota del mughetto non vi dico di comprarvelo ma vi dico almeno provate ad annusarlo capisco che purtroppo il negozio fisico di mazzolare a milano anche l'e-commerce però non so se vendono campioncini questo non lo so quindi non vi posso dare questa informazione ma nell'ipotesi in cui dovessero vendere campioncini credetemi ne vale la pena di acquistarlo se siete amanti della nota di mughetto perché questo è un mughetto con i controcoglioni c'è da dire altro? non credo proprio quindi con questo mughetto e con tutta la carrellata dei mughetti io vi saluto spero che il video vi sia piaciuto spero che vi abbia interessato anche la parte introduttiva relativa all'estrazione e a questo fiorellino così delicato che non si fa estrarre che quindi non si concede facilmente agli uomini in ogni caso se il video vi è piaciuto vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale di mettere un like e soprattutto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate sia della nota olfattiva del mughetto sia i vostri profumi preferiti al mughetto e come vi ho detto anche prima un po' tutti quei profumi che in qualche modo vi iniziano a mettere nel mood primaverile cioè quelli che vi preparano ad abbandonare l'inverno io mi sono un sacco divertita a fare questo video quindi spero che sia piaciuto anche a voi il video finisce qui io come sempre vi ringrazio vi saluto e vi aspetto qui nel canile molto presto con un altro video ciao